Il parcheggio San Felice non è criticato, quello che si trova in area Murazzi, non è criticato soltanto in quanto ritenuto zona franca per alcuni turisti che ritengono sia libero e si appropriano indebitamente dei posti riservati ai residenti, ma anche per la pavimentazione, piastrelle drenanti ormai rotte, tolte, schiacciate, distrutte ormai da decenni. Segnalazioni ne sono state fatte più volte in modo ripetuto agli uffici competenti, anche dagli stessi lavoratori all'interno del comune, come ci ha riferito un signore questa mattina mentre documentavamo la situazione. Eppure negli anni non sembra si sia mosso nessuno per rimediare una situazione a dir poco da terzo mondo. Ci auguriamo che queste immagini arrivino a chi di competenza e chi decida di fare un sopralluogo per dare ordine e decoro a questa zona, magari con un intervento anche per regolamentare l'accesso. Grazie per la visione!